Non sappiamo chi vincerà la 56esima a Tireno Adriatico, ma di certo possiamo dirvi che vi prenderà parte il gota del ciclismo mondiale, con poche eccezioni, Chris Froome, Primoz Roglic e l'astro nascente Remco e Venepul. La corsa dei due mari, come avviene da qualche anno, scatterà mercoledì dalla Versilia, con la tappa in linea Lido di Camaiore e Lido di Camaiore, di 156 km, partenza alle 12.30, arriva alle 16 circa, un circuito che prevede tre passaggi anche sul Monte Pitoro, ma collocati nella parte iniziale. Dunque, frazione adatta ai velocisti e salvo colpi di scena sullo splendido lungomare di Lido, sarà uno sprinter a vestire la prima maglia azzurra simbolo del primato, Kale Biwan, Gaviria e il nostro Viviani tra i papabili. Giovedì sarà invece Camaiore ad ospitare la partenza della seconda tappa, che porterà i corridori a Chiusdino, dopo 202 km piuttosto ondulati. Dicevamo di un cast stellare, di un autentico mondiale a tappe di primavera, che neppure le corse più acclamate potranno permettersi. Per il ruolo di vincitore di Tritone 2021 ci sono diversi pretendenti, ne scegliamo quattro. Il campione in carica Simon Yates, al quale lanceranno la sfida Tadej Pogacar, Geraint Thomas ed Egan Bernal, e parliamo degli ultimi vincitori del Tour de France. È persino riduttivo confinare in una posizione di rincalzo campioni del calibro di Nibali, Quintana, Fulzang, Landa e Pinot. Ma così è, se vi pare, non mancheranno poi cacciatori di tappe, capeggiati dal campione del mondo alla Philippe, dal tre volte ridato Peter Sagan e dal formidabile vincitore delle strade bianche Van Der Poel. Noi italiani ci affidiamo alla locomotiva degli anni 2000, Filippo Ganna. Insomma, un livello tecnico incredibile e straordinario per tutti gli appassionati delle due ruote che nella nostra provincia sono migliaia. Peccato che per le normative anticontagio il pubblico dovrà restare a casa, sperando che sia l'ultima volta. Salutiamo idealmente la corsa con i suoi colori e i suoi grandi campioni sulle strade della Versilia, tra mare e monti, tra gioia e speranza.